benvenute benvenuti siamo alla seconda la seconda puntata di di questa nuova rubrica online che mimosi time e infanzia negata ed è realizzata dalla sottoscritta quindi buona giornata tutti i racchetti e dall'avvocato silvia pini di milano anche lei buongiorno buongiorno silvia allora siamo partiti già con un caso ieri effettivamente molto importante e grave ma quello che trattiamo oggi effettivamente tocca il cuore in profondità perché quello che tu insomma mi hai accennato quando mi hai raccontato questa storia che adesso ascolteremo anche da una delle protagoniste proprio della storia la mamma effettivamente a qualcosa dell'incredibile nel senso che noi in questo momento è vero che siamo coinvolti per quanto riguarda il codice quindi ci sono i tribunali che non stanno lavorando anche se io so che ad esempio a milano invece ci sono comunque già hanno ripreso abbastanza però in questo caso c'è un tribunale in italia che non ha preso ancora magari in visione un certo tipo di situazioni e in particolare quella appunto che ci racconterà adesso l'avvocato perché lei ha già fatto una pec prima aveva chiesto appuntamento appunto per essere per fare in modo che i giudici visionassero questo caso ma non ha avuto ancora risposta e il problema grosso è che adesso ci dirà l'avvocato c'è di mezzo proprio un ragazzo un ragazzo giovane e che assolutamente non sopporta più ma questo è una cosa assolutamente normale di stare in non so se viene chiamata comunità come viene chiamata centro di accoglienza comunque poi ci spiegherà bene silvia nei particolari quindi quello che vogliamo fare oggi è un appello è un appello particolare al tribunale di firenze affinché questo caso venga preso assolutamente in visione dai giudici adesso io passo la parola all'avvocato silvia pieni perché ci racconterà che cosa sta accadendo e per fare in modo che anche se c'è una situazione di lockdown ancora non diciamo così non ben definita che però questi casi devono assolutamente essere affrontati prego silvia allora innanzitutto preciso scusa chetti che il tribunale interessato è il tribunale per i minorenni per i minorenni di firenze e l'appello è rivolto al presidente del tribunale per i minorenni di firenze fatta questa premessa brevemente cerco di essere breve si tratta di un'attivazione per questa signora madre di due figli minori che chiameremo giovanna nome di fantasia un'attivazione del codice rosso a seguito di una querela presentata per presunti maltrattamenti la signora quindi a seguito di questa querela viene portata in struttura assieme ai due figli minori il pm a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali riferisce il pm presso il tribunale per i minorenni e sto parlando riferisce poi al tribunale per i minorenni il quale assume un decreto che poi non è un decreto è un ordinanza questa qualcosa di particolare di solito c'è il decreto invece qua c'è un ordinanza dove conferma l'affidamento al lente il collocamento della madre dei minori presso la struttura e ordina i percorsi psicologici ma questo affidamento alla struttura è perché è successo qualcosa prima no infatti la cosa che ti volevo chiedere che poi è una battaglia che anche che so che anche tu sei con me in questo senso che quando una donna è vittima di violenza non dovrebbe essere lei ad andarsene via di casa ma dovrebbe essere il maltrattante o comunque chi ha fatto abusi o comunque maltrattamenti no quindi diciamo che è questa è stata questa è la causa per cui lei ha dovuto andare esatto purtroppo c'è questa problematica enorme che non si riesce a risolvere perché in questi casi quando c'è un uomo in casa violento in questo caso il padre dei figli scusate il padre dovrebbe essere allontanato lui come carnefice con dei mezzi previsti dalla legge che dovrebbe adottare il pubblico ministero non viene mai fatto si preferisce per comodità allontanare la madre con i figli e struttura ci sono dei motivi ma non è questa la sede per per parlarne avremo modo di parlarne e quando succedono queste cose poi parte il procedimento davanti al tribunale per i minorenni procedimento davanti al tribunale ordinario per i reati per i presunti reati oggetto di querela se non fosse che qui la querela è partita come maltrattamento si è attivato il codice rosso però il pm ha ravvisato che non ci fossero i maltrattamenti che ci fosse soltanto la violenza privata e una lesione una lesione tra l'altro di per sé diciamo non grave e in effetti non si capisce perché sono stati dati poi 30 giorni di prognosi perché è proprio un'esagerazione tuoccoli proprio anche chi non è medico ravvisa questa abnormità della prognosi però questo è un altro discorso anche questo la signora quindi viene collocata in struttura e praticamente una volta parcheggiata viene abbandonata dalle istituzioni perché non vengono più fatti i percorsi ordinati dal tribunale per i minorenni e la struttura stessa dove la signora è stata collocata non capisce perché la signora è lì perché non è una vittima di violenza cioè non è il prototipo di vittima che prevede la legge alla quale applicare questo percorso tanto che all'inizio hanno fatto anche opposizione ai servizi sociali per ricevere la signora perché non capivano perché dovessero collocare questa madre coi minori però hanno obbedito agli ordini ma lì chi è che insiste insiste il centro antiviolenza in questo caso il centro antiviolenza ha insistito ma soprattutto i servizi servizi sociali tra l'altro la signora viene collocata prima del lockdown perché la querela risale a dicembre e la segnalazione dei servizi sociali al tribunale per i minorenni è di fine dicembre 2019 e il collocamento della signora avviene soltanto a metà gennaio quindi se vorrei far notare se davvero questo marito fosse stato violento avrebbe avuto tutto il tempo per far degenerare la situazione perché comunque vivevano sotto lo stesso tetto i coniugi erano insieme quindi la querela fatta il 14 di dicembre è il provvedimento cautelativo preso a metà gennaio in un mese può succedere di tutto. Quindi lei ha passato tutto questo periodo durante il covid in questa struttura? No 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 allora sì 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 una volta collocata durante il covid ha passato tutto questo tempo naturalmente si è rivolta all'avvocato l'avvocato immediatamente ha cercato di innanzitutto fare gli accertamenti soliti che vanno fatti questi casi ma io ho visto subito sono io l'avvocato che c'era qualcosa che non andava anche perché non c'era il reato di maltrattamenti c'erano reati per cui normalmente non vengono intrapresi percorsi di questo tipo cioè se anche gravi fatti di violenza privata ma comunque non sono maltrattamenti non dovrebbe scattare un tipo di percorso come quello che invece è scattato. Questo perché è importante dirlo? Perché la signora nonostante tutto è ancora lì cioè è ancora in struttura con questi due minori nonostante io cerchi da quasi un mese di depositare il ricorso per raggiungere il giudice e sottoporgli questa situazione che tra l'altro nel tempo si è aggravato ulteriormente perché perché la signora è stata sradicata ingiustamente perché ho spiegato per quale motivo non doveva attivarsi questo tipo di meccanismo bensì un altro la signora è stata sradicata con i figli i figli ancora frequentava la scuola nel frattempo è subentrato il lockdown del virus e quindi hanno introdotto le lezioni da remoto. La signora allora ha chiesto ai servizi sociali non trasferite di scuola cioè la scuola di mio figlio lasciate quella che c'è che conosce comunque gli alunni e i professori tanto più che lo consente la lezione da remoto perché non doveva sono almeno erano distanti rispetto al luogo d'origine e il luogo della struttura però con le lezioni da remoto era possibile mantenere la stessa scuola questo non è stato fatto gli assistenti sociali hanno cambiato la scuola e di conseguenza il ragazzo si è trovato male non ha più voluto collegarsi per le video lezioni e ha perso praticamente l'anno se proprio lo vogliamo evidenziare. Questo ragazzo perderà anche l'anno scolastico? Non lo so perché se è vero che stanno promuovendo tutti però effettivamente non ha però comunque l'ha perso dal punto di vista proprio didattico perché in ogni caso non è più non ha più frequentato. Esatto oltretutto io ho chiesto già il 10 di giugno perché avevo precedentemente telefonato presso il tribunale per i minorenni di Firenze chiedendo come potevo fare per depositare il ricorso urgentissimo perché sto ragazzo è andato sempre più peggiorando ma per colpa della struttura perché in struttura non sa cosa fare perché loro sono abbandonati lì cioè non seguono percorsi non seguono niente cioè sono proprio come posso dire stati sequestrati e abbandonati dalle istituzioni no tra l'altro ci sono anche gli operatori della struttura che non si capacitano non riescono a capire perché non si smuove la situazione e come sempre la colpa è dell'avvocato. Ma la situazione è infatti lo stai dicendo cioè non è che colpa tua in questo caso è il tribunale che non ha e lo so che alla fine poi il bersaglio sono sempre gli avvocati su questo è ragione. No ma fa niente abbiamo le spalle larghe a me non interessa questo a me interessa l'obiettivo che è quello di tutelare questo nucleo familiare alla fine fine quindi io il 10 di giugno dopo aver assunto informazioni sulle modalità di deposito del ricorso perché Conti ha lasciato ai presidenti del tribunale di decidere un po' di disciplinare come portare avanti questo periodo post virus per l'attività giudiziaria. Di fatto l'attività giudiziaria non è ripartita ci sono dei problemi enormi no e Dio solo sa quanti problemi ci sono. Sì oggi appunto parlavano proprio stamattina oggi siamo al 24 di giugno dicevano proprio che ogni avvocato è indietro di quasi 200 cause o comunque i tribunali sono veramente adesso sarà un disastro poi riprendere tutta l'attività perché i processi sono assolutamente fermi in effetti non è solo un problema di avvocati più che altro il problema delle persone che non riescono a risolvere il loro problema quindi questo è un grave problema perché qui non è il problema che gli avvocati non riescono a lavorare i giudici non riescono a lavorare il problema è che la giustizia è ferma non c'è la tutela dei diritti cioè è come se fosse stato sospeso uno stato di diritto questo è gravissimo però per non perdermi in questo argomento perché è importante anche questo ne faremo un'altra trasmissione. Esatto però quello che volevo fare io era prendere appuntamento perché così mi chiedeva il tribunale per potermi reccare in tribunale e depositare il ricorso. Questo appuntamento non è mai arrivato io ho sollecitato tantissime volte ho talmente stressato l'interlocutore del tribunale che alla fine mi ha detto lo depositi via PEC e io infatti mi sono arrabbiata perché ho detto ma potevate anche dirlo prima potevo depositarlo via PEC. Questo è avvenuto praticamente il 18 giugno ho depositato via PEC ho tutte le ricevute naturalmente posso provare quello che dico se no non lo direi certo ho depositato via PEC questo ricorso rappresentando l'urgenza perché comunque a parte il fatto che anche durante il lockdown i procedimenti che riguardavano i minori non rientravano nella sospensione ma poi anche volendo comunque se ho depositato un ricorso il 18 giugno oggi dovrebbe risultare quantomeno scaricato e scritto. Non risulta tutto questo. Io ho telefonato continuamente in tribunale il quale risponde il centralino dicendo che non può passarmi la cancelleria che il presidente del tribunale ha dato ordine che non si può parlare con chi è all'interno per telefono con i cancellieri che si può parlare soltanto col centralinista ma il centralinista non sa niente di questi depositi non sa niente di niente e ho detto e allora io come devo fare? Cioè se vengo lì non mi fate entrare perché non ho l'appuntamento chiedo l'appuntamento e non mi date l'appuntamento deposito via PEC non risulta sul sito apposito che è stato depositato e questa donna sono sei mesi che vive come una prigioniera sequestrata in condizioni disastrose perché è stata collocata in una casa, in una struttura faticente, non igienica, pessime condizioni sanitarie quando è entrata era gennaio 2020, era pieno inverno, le coperte tutte sporche, ammuffite, la casa, una topaia e oltretutto pentolame che non si è mai visto, indumenti che davano per i bambini luridi abbiamo le foto, abbiamo tutte le registrazioni di quello che sto dicendo e praticamente veniva consegnato anche il cibo scaduto cioè ad aprile alla cliente è stata consegnata una porzione di cibo che era scaduta ad agosto 2019 Ma queste strutture ricevono dei finanziamenti, no? Nonostante la struttura prenda da 100 a 400 per ospite questi sono soldi che vengono pagati dai comuni denaro pubblico, denaro nostro, denaro delle tasse, questa è la verità e quindi sono pagati fiorfiori di soldi per mantenere decentemente questi ospiti in struttura che fino a fanno questi soldi non si sa e non c'è neanche un controllo i controlli non esistono purtroppo, dovrebbero, cioè sono previsti ma non vengono fatti Ma loro vivono in una stanza insieme o un appartamento? No, allora è un appartamento ricavato da una struttura antica non posso dire cosa esattamente No, certo Diciamo che tra l'altro in struttura dovrebbero esserci dieci ospiti con sei operatori, di notte non c'è nessuno vengono lasciati soli che se capita qualcosa non sanno neanche dove devono andare e soprattutto sono insieme ad altre mamme e bambini ma sono tutti terrorizzati perché ti lascio immaginare come vivono queste donne Certo Queste donne sono lasciate sole, spesso vengono maltrattate cioè passano dalla padella alla brace, questa è la verità Tanto è vero che ci sono donne che si rivolgono a me e mi dicono Avvocato io non denuncio perché mi portano via i figli e poi mi mettono in galera cioè chiamano galera le strutture perché ormai siamo nell'era di internet e sappiamo ci sono case famiglie e strutture che funzionano bene e vanno bene ma tante funzionano male e sono posti infernali dove anche il personale non viene diciamo selezionato come dovrebbe essere selezionato dove non ci sono dei controlli che sono necessari e vengono maltrattate, vengono cioè proprio minacciate io la cliente aveva il terrore a fare questo appello perché dice ma cosa mi succede? mi porteranno via i figli, non me li faranno più vedere è terrorizzata però alla fine si è decisa a farlo perché il figlio non sta bene in struttura ma non è neanche giusto che sta in struttura come non è giusto che stia in struttura anche questa donna questo nel merito, non voglio anticipare la sede processuale ma arrivare al punto che non si riesce neanche a raggiungere il giudice per sottoporre una questione così grave qui siamo, rasentiamo la follia qui rasentiamo la follia perché se succede qualcosa al ragazzino ma non perché il ragazzino non è a posto di cervello scusate l'espressione molto semplice perché il ragazzino prima di entrare in struttura era bravissimo a scuola era un ragazzino normalissimo pieno di vitalità con la voglia di vivere che gli è stata spenta un ragazzino di 15 anni non si può assistere a questo scendere assolutamente ma ad esempio per quanto riguarda invece il collegamento in questo caso col papà lui non ne ha di contatti lo vede in ambiente protetto cioè durante il lockdown videochiamate telefonate in presenza dell'operatore il figlio di 15 anni non riusciva a parlare col padre in presenza di questo estraneo anche perché sono presenti come dei gerarchi fascisti cioè non puoi chiedere certe cose non puoi parlare di certe cose non puoi ridere in un certo modo devi ridere in un altro non sto scherzando è terribile non so che è difficile da credere perché anche io stentavo a crederci ma ho dovuto crederci perché ho visto proprio con i miei occhi e sentito con le mie orecchie certo ma se 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 Giovanna vuole posso farle una domanda Giovanna dovresti attivare il microfono se se vuoi parlare devi schiacciare sul microfono vediamo se lo può fare il nostro regista magari può farlo lui togliere mettere il microfono di Giovanna ok Giovanna adesso puoi sì ci sei ci sei no l'hai tolto prova a togliere ancora il ecco adesso sì adesso se sei così ti sentiamo prova a dire ci sono ciao ciao Giovanna intanto insomma grande solidarietà perché queste queste storie effettivamente sono pesantissime uno non andrebbe mai assolutamente a pensare che addirittura ci si metta anche il tribunale o comunque la giustizia in questo caso a ostacolare quelle che sono insomma un principio proprio di un principio di collaborazione anche per chiudere certe vicende no perché comunque sicuramente tu vuoi assolutamente arrivare a una conclusione sia dal punto di vista personale ma soprattutto per i tuoi figli che stanno vivendo una situazione assurda e quello che ti volevo chiedere appunto visto che tu comunque sei assolutamente vittima due volte in questo caso mi sento più vittima ora in questo momento più vittima di istituzioni che è ingiustamente noi come diceva anche avvocato ma questa anche quello che dico io siamo imprigionati qui senza aver commesso nessun crimine cioè noi non abbiamo commesso nessun crimine soprattutto i miei figli che sono stati privati perché sono stati privati dei loro affetti perché cioè ora corrego un secondo avvocato Pini i ragazzi il padre l'hanno sentito da gennaio ad oggi solo tramite telefonata quattro volte ma questo perché è il centro che decide le chiamate quello lo decide il servizio sociale i ragazzi naturalmente domandano perché non possono sentire liberamente il papà le cose che sono giuste perché non c'è nessun maltrattamento nei confronti dei ragazzi certo cioè siamo siamo trattati come dei criminali noi solo che la differenza che i criminali quando escono entrano in galera lo sanno quando entrano lo sanno quando escono noi no ma infatti tu adesso vabbè sicuramente hai riposto tutta la tua fiducia nell'avvocato che sicuramente porterà avanti la tua istanza quindi lei farà di tutto quello che ti volevo chiedere invece è il tuo rapporto con i ragazzi come in questo momento cioè loro che cosa ti dicono che cosa pensano io voglio voglio mettere in primo piano la situazione del ragazzo di 15 anni perché il bimbo il bimbo piccolo è normale uno lo riesce a gestire con poco un ragazzo di 15 anni è normale che ha un suo già carattere formato che ha le sue idee questo ragazzo qui non ha mai avuto scusami questo ragazzo è sempre stato è sempre stato un ragazzo solare un ragazzo ben voluto da tutto paese che mi fermavano le mamme mi facevano complimenti per quanto è educato era bravo a scuola frequentava calcio era bravo a calcio era un ragazzo era un ragazzo normale bravo bravo un ragazzo normalissimo bravo lui trovarsi in questa situazione qui dopo tutto questo tempo ma non solo perché abbiamo vissuto anche anche il lockdown noi chiusi in questa casa se così la possiamo chiamare cioè abbandonati 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 sì abbandonati sì cioè fermi chiusi due volte alla fine cioè prigionieri due volte sì questo ragazzo naturalmente in questo momento la mia grande preoccupazione è che lui possa scappare di qui lui lo sa cosa andrebbe incontro se scappa da qui perché io con mio figlio cerco di parlare però lui si sente ingiustamente in questo vortice in questa prigionia lui l'unica cosa che ora riesce a dire che lo devo portare via di qui ma al più questo e io lo vedo che questo ragazzo giorno per giorno cambia giorno per giorno sta sempre più male ma non è perché sono io che non sono in grado di di essere una buona mamma no certo è la situazione e questa situazione non gli aiuta perché lui ha bisogno di suoi affetti lui ha bisogno di tornare alla sua scuola dove ha fatto tanti sacrifici alla scuola gli amici dove abita il suo ambiente cioè perché poi tra l'altro non sarà vicino casa questa casa no adesso non sarà neanche vicino casa ma glielo posso garantire che è anche molto lontano quindi figuriamoci proprio sradicati completamente dalla propria vita ma non ci sono quando un ragazzo ha un certo tipo di manifestazioni psicologiche è possibile che non c'è appunto il servizio sociale o lo psicologo o la psicologa che si rende conto il problema è che il servizio sociale si trova nella città da dove sono partita io e di ciò non è mai stato non è mai stato interessato al benessere dei ragazzi mai tanto è che io un nulla osta per toglierlo da scuola della provenienza non l'ho mai firmato l'aveva firmato il servizio sociale dopodiché io comunque ho insistito anche con dei coordinatrici di classe di tutte e due le scuole ho insistito di farlo frequentare la piattaforma della scuola di provenienza perché il ragazzo nella scuola nuova era indietro con programma non poteva frequentare era un altro tipo di scuola la scuola inizialmente aveva aveva accettato il fatto poi improvvisamente l'hanno l'hanno tolto proprio dalla piattaforma mandando l'email che mio figlio non fa più la parte della scuola questa qui è che deve frequentare con la scuola dove si trova grazie perché la tua testimonianza effettivamente ci racconta come in questo caso effettivamente siamo sotto una situazione grave proprio dal punto di vista psicologico perché comunque già il ragazzo ha subito un trauma dal distacco da casa e in più appunto per le motivazioni che abbiamo raccontato prima ma infatti io ti volevo chiedere una cosa Silvia come avvocato cioè così diciamo un po' da esterna ma se non so il papà decide di chiudere cioè può chiudere un padre la situazione e dire no guarda mi rendo conto anch'io che questa situazione è assurda ritiriamo tutto non so la querela la denuncia cioè si può concludere una cosa diciamo così consensualmente come un rapporto di coppia o non si può? Allora ti spiego una cosa ti ricordi il video che abbiamo fatto ieri no? Lida la querela è stata archiviata cioè non è stata ritirata che poi ci sono querele che si possono ritirare e querele che se anche la parte offesa le ritira sono reati procedibili d'ufficio e quindi vanno avanti comunque per perseguire colui che risulta responsabile quindi ieri abbiamo visto che è caduta l'accusa è stata archiviata definitivamente dal giudice dal giudice eppure la bambina rimane ecco la mamma rimaneva in struttura e rimane tuttora in struttura cioè ci sono delle cose talmente illogiche talmente illegittime perché è il caso di dirlo perché la legge non prevede questo quindi delle cose talmente assurde che quando le racconti non ti credono ma sono vere sono vere quindi anche se loro paradossalmente dovessero mettersi d'accordo cosa non vera perché la signora ha lasciato il compagno non ci vuole più tornare con il compagno il compagno ha fatto un singolo episodio di violenza se vogliamo fisica che poi è stata più accidentale che volontaria perché lui stava prendendo una borsetta lei l'ha strappata lui l'ha strappata lei e lei si è lussata un mignolo e lei si è lussata lussato un mignolo 30 giorni di prognosi io 30 giorni di prognosi le ho viste per lesioni di ben altra natura non voglio entrare nella competenza di nessuno ma no certo ci sono cose che sono evidenti anche ad esempio loro cioè questa cosa a quanto pare da quello che stai dicendo insomma andrà avanti per parecchio tempo se il tribunale finalmente va avanti per parecchio tempo perché non si riesce ad arrivare al giudice e magari anche arrivando al giudice perché notare che la signora dovrebbe tornare a casa come ha chiesto tante volte e anche se in questo caso dovrebbe essere aiutata dalle istituzioni lei si è già trovata un lavoro perché noi abbiamo prodotto allegando al ricorso che non riusciamo a depositare o non sappiamo se è stato depositato scaricato per tutti i motivi che ho detto prima una dichiarazione di un datore di lavoro pronto a riprenderla che era il precedente ma perché lei non può lavorare in questo momento ma in struttura come fa a lavorare cioè lei tra l'altro è in un ambiente estraneo è stata tu immagini a che ti prendono da dove sei che ne so abiti a Roma abiti a Firenze e ti portano a Palermo ti sembra una cosa facile ricominciare una vita lì loro dovrebbero aiutarti ma qui non è partito nessun sostegno perché lei non è una vittima cioè qui paradossalmente lei si trova in una procedura in una struttura che non non riguardano il suo caso cioè per violenza privata o per una lesione come ha subito lei non si è mai visto allontanare una madre con i figli e anche laddove lo fanno comunque è gravissimo perché devono rimediare ma il tribunale rimane sempre quello di competenza non si può cambiare il tribunale no no il tribunale rimane eh ma cioè scusa che tanto poi comunque sarebbe uguale non è che andando in un altro tribunale si risolve la situazione perché pensavo appunto che ad esempio a Milano sono tornati abbastanza a lavorare perché Milano io lo conosco bene cioè non voglio parlare necessariamente bene in un tribunale piuttosto che in un altro però no no è solo una cosa pratica Milano è ripartito è il caso di dirlo sì poi siccome Conte ha detto ogni presidenza il tribunale faccia da sé paese che vai usanza che trovi cioè ti trovi il tribunale che vai è organizzato e funziona il tribunale che non ti dico altri tribunali certo guarda io diciamo che noi comunque stiamo lanciando una bella palla adesso no quindi l'appello che adesso ti faccio finire questa nostra chiacchierata ti faccio concludere con l'appello che ribadisco intanto saluto Giovanna e spero vivamente di rivederti un giorno non piangente ma assolutamente sorridente per la fine di questa storia assurda veramente assurda e ti volevo appunto dire Sina perché condivido assolutamente con te questo appello di fare questo appello al tribunale dei minori di Firenze io faccio un appello al presidente del tribunale per i minorenni di Firenze di assicurare che questo ricorso non solo risulti depositato come risulta a me perché io non sono sicura che sia stato scaricato e sottoposto all'attenzione di chi di dovere e soprattutto provveda quanto prima tenendo presente tutte le motivazioni che io ho detto nel ricorso per salvare questa donna per salvare questi minori perché le istituzioni apparentemente li hanno tolti da una situazione di pericolo ma si ritrovano in un'altra situazione di pericolo e di disagio non è una questione personale non è un attacco alle istituzioni io chiedo cortesemente quello che è previsto per legge non chiedo nient'altro perché comunque questa situazione non può continuare in questo modo perché il ragazzino è all'estremo ma non per colpa sua ma per tutto quello che gli è capitato in questi ultimi tempi ha maggior ragione per tutte le motivazioni che abbiamo appena elencato quindi non se ne abbia male se io sono ricorsa a questo mezzo ma non avevo alternativa siamo arrivati a questi livelli purtroppo io dovevo farglielo sapere e spero che lei lo venga a sapere almeno questo guarda grazie grazie ancora Silvia un saluto a Giovanna un abbraccio grande grande ho visto tra l'altro che è passato dietro di me mio figlio che ha 15 anni quindi può immaginare insomma la solidarietà e un abbraccio veramente grande e a presto grazie Silvia anche a te ciao Giovanna mi raccomando Giovanna sì mi raccomando anche io faccia forza dai certo noi ci siamo noi ci siamo grazie 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 veramente grazie grazie ciao un abbraccio ciao a tutti vi ringrazio per l'attenzione grazie Katie grazie a te ciao